Io vorrei far notare i disagi, le cose e Maya, fai vedere Maya? Maya è quella che sa meglio di tutti. Amori, ma ciao! Adanti abbiamo il castello. Il castello di Camelot è stato un po' ribaltato. Tiziana alla guida e dietro non si vede nulla però c'è l'invasione. Il castello di Camelot E ecco tutto quello che c'era dietro al cofano. Il mio bagaglio si è perso in tutto ciò. Il castello di Camelot Allora buongiorno siamo pronte per questa gara? Super pronte! Allora buongiorno! 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 Grazie a tutti. 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 Vicende eroiche e amori folli Tradimenti e virtù Emozioni magiche e misteri Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.